salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ormai sapete dji lancia più prodotti nell'arco di un anno e ha una programmazione di lancio di prodotti adesso 10 maggio lancerà l'attesissimo dji mini 3 il nuovissimo drone da 249 grammi mentre nella seconda parte dell'anno dovrebbe lanciare il dji fpv mini si la versione leggera di lui questo drone che è stato tanto acclamato al suo arrivo poi invece tanto detestato nei mesi seguenti ma che è un drone che io stra adoro è un drone che secondo me è stato incompreso sotto tanti aspetti non che non abbia difetti ma sotto tanti aspetti è stato secondo me incompreso e questo video appunto ragazzi lo sto facendo per non far commettere gli stessi errori che sono stati commessi con lui comunque ci sono già le immagini di questo nuovo dji fpv mini che ovviamente è ancora in fase embrionale perché comunque mancano ancora un po' di mesi alla sua uscita ma comunque le immagini già ci sono però questo video appunto è per spiegarvi cosa non dovete sbagliare cosa dovete sbagliare ragazzi se siete intenzionati ad acquistarlo perché ragazzi acquistare comunque un prodotto dji fpv da 249 grammi quindi che ci dà la possibilità di volare con molta più libertà rispetto a lui è sicuramente tanta tanta roba però poi subentra la problematica che c'è stata con lui uno che è stato acquistato da utenti che non avevano mai volato con un drone fpv che ok lui ci dà la possibilità di volare con la modalità normal con la modalità sport e dove praticamente è un drone classico come siamo abituati ad utilizzare quindi che sia un mavic un dji mini quindi sta in aria da solo sta fermo tutte queste cose ma che però non ci dà un grande risultato dal punto di vista del divertimento a parte le prime volte che lo utilizziamo perché comunque qua dentro abbiamo una qualità nel ritorno video pazzesca e quindi davvero entusiasmante e una godura a vedere quello che inquadra il drone qua dentro ma poi dopo un po ci si stanca e si è speso comunque tanti tanti soldi per dare il meglio di sé ovviamente lui va pilotato in acro è questo il problema che pilotare un drone in acro non si impara dall'oggi al domani soprattutto non si impara con un drone così bisogna fare piccoli passi per arrivare a pilotare un drone come questo in acro e questo è stato sicuramente uno degli errori commessi da tantissimi utenti pensavo di prendere un drone come questo e di pilotarlo e di fare cose assurde no le cose assurde le puoi fare ma dopo che hai imparato a volare in acro il mio consiglio di acquistare uno dei kit pronti all'uso che ci sono adesso tipo quello della beta fpv il cetus pro che veramente è incredibile per imparare volare in fpv si spende una cifra non assurda non abbiamo paura di distruggere perché è indistruttibile abbiamo tutto pronto e impariamo a volare in acro poi quando arriverà il dj fpv mini saremo pronti a volare subito in acro anche con lui o se non ci vogliamo volare subito in acro abbiamo queste altre due modalità in cui il drone è un po autonomo quindi non è tutto nelle nostre mani e ci farà arrivare alla modalità acro di quel drone in modalità graduale però sapremo già volare in acro quindi è solo prendere la confidenza di volare in acro con un altro drone che non c'entra niente con quello che avevamo fino a quel momento mentre se non abbiamo mai volato in acro ragazzi è praticamente un acquisto secondo me impensabile uno perché non ci si diverte due perché se si tenta di volare in acro con un drone così senza avere mai volato lo si distrugge e visto i costi anche no stessa cosa sarà probabilmente con il dj fpv mini quindi ragazzi questo è solo un video per spiegarvi cosa dovete fare se avete intenzione di acquistare dj fpv mini perché lui è un drone che io adoro infatti tantissimi video sto portando sul canale con lui ne arriverà uno nei prossimi giorni pazzesco in una location incredibile dove sono andato giù impicchiata da 150 metri di scogliera veramente è un drone che poi adesso con queste nuove eliche della master ice cream dedicate a lui quindi sono eliche nate per lui non sono eliche adattate è migliorato in maniera pazzesca perché comunque qualche difetto l'aveva tuttora lama perché non c'è nessun prodotto ovviamente senza difetti ma con queste eliche ha avuto un ulteriore miglioramento è sicuramente un drone che come sarà poi dj fpv mini non è un drone da freestyle perché ragazzi sono droni che uno non hanno le caratteristiche per essere droni da freestyle infatti ovviamente i super amanti super fanatici del freestyle non l'hanno acquistato giustamente uno perché non sarebbero riusciti a fare quello che fanno con i loro droni normalmente e due perché se si schianta un cosa di questo tipo non si ripara acquistando a qualche euro i pezzi su banggood qua sono salassate e ti piange davvero il cuore o forse anche l'anima però ragazzi dall'altra parte se lo si usa per quello che è nato secondo me fare long range fare cruising e quindi scalare le montagne fare anche dei dive in picchiata se vogliamo fare del cruising su paesaggi assurdi perché comunque quello che abbiamo qua dentro come ritorno video da lui è incredibile perché la risoluzione che abbiamo qua dentro da lui ci rende il paesaggio che stiamo guardando dall'alto qualcosa di affascinante e poi pilotato in acro è totalmente nelle nostre mani quindi abbiamo questo senso di libertà assurdo perché sia nel pilotarlo che in quello che vediamo ed è davvero appagante una maniera incredibile però ha utilizzato così e la stessa cosa appunto sarà con il suo fratellino minore perché comunque non sarà sicuramente un drone adatto al freestyle ma proprio anche perché se lo si schianta non lo si ripara come un classico drone FPV lo rende sicuramente un po più limitato però fare dei long range e fare dei cruising con dei prodotti DJI ci dà quel vantaggio che non abbiamo normalmente con i droni FPV classici anche se sono dei droni creati per long range non abbiamo le stesse sicurezze qua abbiamo un retorno to home di precisione come fa un altro prodotto DJI quindi arriva in maniera precisa nel caso si dovesse disconnettere dalla radio dovesse disconnettersi dal visore dovesse avere un calo di batteria quindi va in allarme batteria cioè qualsiasi motivo lui torna in maniera precisa e se andiamo in stato di panico abbiamo comunque un tasto che lo ferma in overing e quindi possiamo un attimo fermarci e dire ok stavamo facendo una cazzata incredibile adesso mi riprendo un attimo e riparto cioè tutte cose che normalmente non possiamo fare con un drone FPV classico e poi comunque nel long range dove la disconnessione soprattutto per quanto riguarda il ritorno video più che il controller è un attimo perché quando si gira intorno a una montagna o si gira intorno a degli edifici si gira intorno a degli alberi a dei boschi cioè tutte queste cose che in un attimo ci fanno disconnettere il drone con un drone FPV classico non sempre finisce bene spesso potrebbe finire male qua invece finisce probabilmente sempre bene perché comunque lui si ferma RTH e arriva da solo in caso di disconnessione quindi abbiamo tutti questi vantaggi per quanto riguarda la sicurezza quindi avremo questi vantaggi anche sul suo fratellino minore ma va pilotato in acro quindi quello che invece è proprio la libertà di fare quello che vogliamo con lui nel limite delle sue possibilità e per quello che è comunque il suo punto di forza che non vanno forzati a fare qualcosa per cui non sono adatti a fare però la cosa importante ragazzi che è appunto il senso di questo video è preparatevi acquistate un prodotto pronto al volo con radiocomando dronino e visore giusto per imparare volare in acro poi allora sarete pronti all'uscita del DJI FPV Mini a volare in acro con lui questo errore di valutazione con lui è costato a tanti l'aver acquistato il drone per niente per poi averlo rivenduto e davvero ragazzi è un drone che secondo me ha pagato troppo l'inesperienza della gente che l'ha acquistato e questo ha portato sicuramente a non dargli giustizia per quanto sono le sue reali potenzialità e caratteristiche di utilizzo quindi ragazzi questo era solo un video per informarvi dell'uscita del DJI FPV Mini che magari già sapevate ma di prepararvi per l'uscita del DJI FPV Mini per non finire come si è finiti con lui se questo mio video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità e prime voline FPV stampe 3D tantissimi spoiler di quello che porto qua sul canale delle location dove vado a volare anche con lui sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi cupolo sconto riguardante il mondo dei droni della tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un test tutorial o novità ciao e al prossimo video